Prima tappa della professoressa Cameron in Italia, viene da un tour abbastanza pesante nonostante la sua tranquillità per presentare questo libro, un tour che è stato molto partecipato, devo dire anche che sono stato stupito perché appunto i temi sono spesso temi divisivi e complessi, è stata a Pordenone e Legge, ieri siamo stati insieme al Parco Arte Vivente di Torino, è stato bello vederla in dei luoghi che non nascono per questi tipi di temi ma quindi ibridarsi anche con altri tipi di temi, concetti, segna alla Montana State University, filosofia delle religioni peraltro e questo è il libro che è stato pubblicato nella sua prima edizione, cioè l'edizione anglosassone da Oxford University Press il che rende ancora più interessante l'impatto decisivo che questi temi hanno nella cultura contemporanea in Italia viene pubblicato da Safarà Edizione un piccolo ma combattivo editore di Pordenone che lo ospita all'interno di una collana, Animalia, tutta dedicata alla problematizzazione dei temi riguardo alla questione io parlo un po' come un robot perché ho una traduttrice accanto, di solito cerco di essere un po' più frizzante ma cerco di prendermi cura di chi dovrà tradurre anche le cose che dico adesso comincerò a fare delle domande a Lisa che riguardano il senso del suo libro e la prima è volutamente molto generale perché mi interessa farvi capire, è stato molto utile anche ieri il senso per cui una filosofa, anche attivista, si trova a un certo punto della sua vita lei ha lavorato molti anni a questo libro, adesso ci dirà anche quanti ma sono veramente tanti di solito gli italiani non hanno questo 15 anni per lavorare ad un libro significa una vita di dati, di esperienze che stanno dietro questo libro perché a un certo punto ci si trova a fare un libro così dettagliato, così tecnico, così anche numericamente articolato su quello che è lo stato dell'arte rispetto allo sfruttamento degli altri animali perché si sente l'esigenza a un certo punto nella propria vita, capito il problema di dedicarsi in modo così dettagliato a un tema come quello che riguarda il mangiare la terra Hi, thank you for being here, and thank you. So, why did I write Eating Earth? I'm an ethicist, and yes, this is a very scientific book with lots of details, and over the time period it took me to write it, they kept changing, so, yeah, I had to keep updating information, and as I traveled along, I found out that covering animal agriculture wasn't enough because I could see when I talk to people, when I'm writing a book I get all excited and I talk to people and they'd just say, well, eat fish, or I live in Montana, they'd say, this is why hunting is good, so I realized I had to do not just animal agriculture, but fishing and hunting. Grazie mille per essere qui stasera perché ho scritto questo libro, allora, un libro scientifico che nel corso del quale, nella preparazione del quale ci sono voluti 15 anni, come avete sentito, ho dovuto cambiare i dati che stavo ora accogliendo perché man mano le cose si modificavano. È un libro che all'inizio parlava dell'agricoltura animale, dell'allevamento, poi però nel corso degli anni parlando anche con diverse persone mi sono resa conto che non sarebbe stato sufficiente trattare solo da questo punto di vista il problema, perché se parlavo, spesso mi dicevano, perché allora non mangi pesce, o perché, ecco perché è bello andare a caccia, quindi ci sono soluzioni diverse a questo problema, e nel libro invece si resa conto che era necessario includere anche tutti questi argomenti. Let me be very clear about these numbers. I am a philosopher. These numbers are important for other people, and so I've spent a lot of time collecting them, but for me, one is enough. I don't need to know that, let's say, I don't need to know that 600 million tons of grain are fed to cattle while, I don't know, 900 million people are dying from hunger-related problems. For me, one person is enough. So, for me, I just want to be very clear that this information is here, because I know that so many people need this information to bring change, and I am committed with my life to trying to leave the world a little better than I found it, and I know that looking at diet is very important for that. Allora, i numeri principalmente sono qui per voi, per il pubblico, perché a me basta sapere appunto che il problema c'è, però per me non è importante sapere che ci sono 600 milioni di tonnellate di cereali che vengono dati in pasto agli animali, vengono dati come coraggio agli animali, quando ci sono 900 milioni di persone che muoiono di fame nel mondo, hanno problemi legati alla sussistenza per mancanza di cibo. La cosa importante per me è condividere queste informazioni di modo che tutti possano comprendere e cambiare. Io sono qui per cercare di dare il mio piccolo contributo a migliorare il mondo. So, I did this research to find the truth. I wanted to know what kind of a diet is best for the environment. And for me, the most shocking information that I found is that dairy is the worst. It's the worst for manure, for output. It's the worst for greenhouse gas emissions. It's the worst for fresh water reduction. And this is because of the intensity involved in a mother cow who has to produce a baby in order to produce milk so that we can steal the calf and steal the milk. So, just as with animal ethics, the problem, the greatest suffering lies with the cows. It is also true that the worst environmental damage lies with the cows. Pigs are also problematic because their manure is in such a high, their manure is four times the ratio. One pig produces four times the manure as one human. But a cow consumes over 50 pounds, a lactating cow, over 50 pounds of grain in a day and also about, they can consume up to 50, oh, I do gallons of water. I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure I'm sure that for this, an element fundamental is the diet, cioè quello che noi mangiamo. Analizzando come appunto le nostre scelte alimentari possono influire sulle conseguenze sull'ambiente, mi sono reso conto che i formaggi, comunque tutto ciò che vedere con i latticini, sono l'elemento che più ha impatto sull'ambiente. E in particolare, perché per l'emissione di gas serra, ma anche per il consumo di acqua dolce, quindi tutta una serie di elementi che rendono l'allevamento in particolare delle mucche particolarmente impegnativo per l'ambiente, hanno delle conseguenze molto più gravi. Quindi, sì, tutti gli animali soffrono, ma al contempo hanno anche l'allevamento di questi animali anche un impatto fortemente negativo sul nostro ambiente. Two other really important bits of information that I uncovered are the fact that soy, so if you go vegan, they'll say, oh, you're eating that soy and it's GMO and so much of the land and the forests are being destroyed, but 80% of that soy is fed to farmed animals. So, if you're seriously worried about soy, then you need to leave off the farmed animal products. And the other really interesting statistic, and this, I worked with a physicist, a mathematician, a friend of mine, who is really good with numbers and helped me make lovely graphs that Safarar then made even better. So, one thing he did, he did some math, and if you're flying around, try to bring change like I do, I was very worried about whether or not I should fly around and try to bring change. He said, if you can change one person, then that's nothing because eating one steak is as bad as that flight for environmental damage. Two are the important information that I discovered in this book. First of all, the first is about soy, because many people say that soy is genetically modified, complicated, complicated. We don't realize that, however, the 80% of the soy that is produced is actually given as a forage to animals that we consume. So, if you consume meat, you actually consume it. So, the information that I found kept me working over the years quite happily. And I was also, I was never disappointed in the information as an animal activist. I'm just as much an environmentalist, but the animal activist side of me was never disappointed. The information, the two always worked well together. But the main reason I began the project and kept working on the project is because the corporations have the power. and without information and without working together, those of us who have concerns, whether they're for the ethics and animals, whether it's environmental ethics, whether it's social justice, we are, we have so much less power than these corporations and we really have to get on board with one another. In the course of the years, I've continued to work on these information as an environmentalist, but also as an activist for the rights of animals, and I'm sure that it's important to do it because those who have the power are the great corporations, so it's important that we cooperate together, that we spread these information in order that we are, so that we are, so that we are, This book begins with an aneddoto that I liked a lot, that is an aneddoto that is an aneddoto that is an aneddoto that Lisa has transcended in Tibet, in which we were talking about a dialogue with this irlandese, in which, she says, and the words, they have an attrazione fatale, in which she is able to take, in which we have been taking on the subject of the book, which is obviously the sense of the book, was the alimentation. Lisa tries to talk for a long time with this irlandese, until she gets convinced that the alimentation passes the majority of the change compared to a whole series of distances, that regard the environment, the suffering of animals, etc. Finché lui però, piuttosto che convertirsi a una qualche tipo di alimentazione radicalmente etica, sceglie di portare il dibattito e il discorso con Lisa rispetto a quella che viene chiamata Happy Meat, carne felice. Ovvero l'idea che sia in qualche modo possibile continuare a consumare prodotti animali e animali stessi qualora questi vengano in qualche modo allevati all'aperto, in modo tra virgolette non violento e seguendo delle dinamiche che noi spesso etichettiamo con un termine quasi volgare che è quello di biologico. Paradosso perché biologico dovrebbe in qualche modo significare la logica della vita e se tu ammazzi qualcuno non si capisce fino a che punto dovrebbe essere biologico quel tipo di alimentazione. E' un grande tema perché in realtà è anche il tema del futuro e io in questo momento, in questa fase della mia vita vivo in una città, Torino, in cui in questo momento c'è la più grande convention di cibo biologico, slow food, terra madre per l'esattezza che possa esistere in Europa ed è chiaramente il tema con cui ci dovremmo confrontare in futuro. Una domanda ingenua ma non tanto è per quale motivo concentrare anche la propria attenzione sulla cosiddetta carne felice e perché questo costituisce un problema morale non secondario ma anzi di prima importanza quando si tiene in considerazione la sorte degli animali, del pianeta e la filosofia morale in generale. E' un'altra domanda in generale. If you're environmentalist Cattle of course I can't really say that one is worse than the other But maybe if I had to pick It would be cattle that are the worst for the environment So if you put them on grass They create more greenhouse gas emissions Because they have to chew roughage So when cattle eat grass They not only stay around longer Because it's not intensive feeding But they produce more methane So you're making the worst environmental problem Which is climate change Even worse if you go to happy meat La happy meat, la carne felice, non esiste Quindi se pensiamo a come poter modificare la nostra dieta Se parliamo da un punto di vista ambientalista Probabilmente l'elemento peggiore È costituito il momento dell'allevamento dei bovini Se noi spostiamo l'allevamento intensivo dei bovini all'aperto Quindi pensiamo di fare una cosa positiva Perché i bovini almeno possono liberi di pascolare E mangiano l'erba Cosa che normalmente non hanno occasione di fare Stiamo in realtà facendo un danno all'ambiente Perché gli animali allevati in questo modo Producono una quantità superiore di emissioni di gas effetto sera Quindi non stiamo facendo un favore diciamo Né all'animale ma neanche a noi a lungo termine So if we look at the worst, the big problems that are associated with animal agriculture So let's look at deforestation So how are you going to put cattle on grass without making deforestation worse? All right, then there's fresh water reduction Another, animal agriculture is the biggest cause of deforestation and fresh water reduction And soil depletion and dead zones So pretty much all of our big environmental problems are directly linked with animal agriculture It's the number one cause How is it going to make that any better to put the cows on grass? So it doesn't solve The only problem that solves is the guilt at how badly we're currently treating the cattle I problemi che sono normalmente collegati all'agricoltura Quindi la deforestazione o anche l'utilizzo di acqua dolce O la creazione di queste zone aride e secche Non vengono che aggravati dallo spostamento degli elevamenti dai capannoni Dove non intervengono nelle zone aperte Perché alla fine dei fatti quello che risolviamo è semplicemente il nostro senso di colpa Pensiamo di rendere gli animali più felici per cui non ci sentiamo altrettanto in colpa And of course it doesn't solve that problem Because you're still going to exploit the cattle, breed them for your purposes And kill them when they're in their adolescence So really no problem is solved And I also want to say that this is a very elitist approach And of course my friend is quite rich He can afford to buy happy meat that's had more grass and more land But how many people can afford that? And especially if we use more and more land And as the wonderful Cowspiracy shows us You would have to put grass all over every city, across every ocean And you still would not have enough land for happy meat E comunque appunto questo non risolve il problema che dicevamo Il problema morale perché continueremo a sfruttare gli animali E ad ucciderli quando poi avranno raggiunto un'età Che non dovrebbe essere quella in cui naturalmente morirebbero Quindi il problema della carne felice tra l'altro Non è fattibile perché non avremo mai a disposizione Una quantità sufficiente di prati per poterli sfamare Tutti nel modo che riteniamo meno moralmente diciamo impegnativo E soprattutto perché quante persone sarebbero in grado di permettersi Di acquistare la carne prodotta in questo modo Perché comunque i costi non sono pochi Non tutti sono in grado di farlo La vita è fatta di cambiamenti E ora è arrivato il momento di cambiare quello che mangiamo Visto che è stato citato E che casualità l'associazione ad aver organizzato questa conferenza E anche la stessa che ha fatto sì che Causpirasi Questo documentario venisse distribuito come si deve in Italia Consiglio a chiunque lo volesse vedere di prendere contatti Con l'associazione che credo stia anche lavorando a un libro Che viene dal documentario Che poi verrà pubblicato dalle edizioni Sonda E' un documentario veramente utile Per chi per la prima volta si interessa al problema Dello sfruttamento animale e dell'ecologia in generale Uno dei fenomeni crescenti Almeno soprattutto nel nostro paese Ma più in generale in Europa Nel senso che mi è capitato Gironzolando qua e là di sentirlo E' il cosiddetto pescetarianesimo Parola di dubbio conio Che in qualche modo Rende, taglia in due il vivente di mare Rispetto al vivente di terra E fa sì che da un punto di vista morale Si consideri sempre di più La possibilità che sia Meglio Nutrirsi di vegetali e anche di pesci Lasciando da parte gli animali Diciamo così terrestri di terra Come se poi ciò che sta sotto Dovrebbe essere anche per metafora Qualcosa che debba stare sotto Da un punto di vista morale Ma in questo l'uomo è più buffo Che intelligente Però va bene Amen Lisa fa un tentativo Secondo me Più unico che raro Ed estremamente utile Dedicando un'intero capitolo Allo sfruttamento dei pesci E alla questione Diciamo così Degli oceani E non soltanto Delle terre emerse Per esprimerci un po' Al Signore degli anelli Piuttosto che In modo filosofico In cui cerca di concentrare Tutte le sue energie intellettuali Su due punti Che sono quelli che sto per chiederle Innanzitutto raccontare Perché è così urgente Dedicarsi anche allo sfruttamento Dei pesci E a ciò che facciamo Nei mari Ma anche cercando di spiegare In modo non banale Che tipo di cosa Ovviamente non è una cosa Che tipo di entità Sia un pesce Uno dei paragrafi fondamentali Di questo capitolo Si chiama proprio Che cos'è un pesce E lì si attraversa Tutte le nuove scoperte Di Animal Cognition Che mostrano Come i pesci Siano dotati di memoria Di emozioni Di un certo tipo Di razionalità Di sensibilità Andando a falsificare Il mito atroce Che in qualche modo Chi sta sott'acqua Debba essere moralmente Meno rispettato O rispettabile Di chi sta sopra L'acqua Perché è stato così Importante Dedicare Un intero capitolo Alla questione Ittica Quando ho parlato Di agricoltura animale Vedo che tutti Pensano pensare al pesce Ed è come fare Come un bambino piccolo Che quando si mette le mani sugli occhi Poi la gente Pensa di non essere visto È la stessa cosa Così come gli animali Che vengono macellati Così come gli animali E' peggio ancora per i pesci I pesci sono nel fondo del mare Quindi non abbiamo proprio idea Di quello che succede Di com'è la loro vita L'oceano È fondamentale L'oceano produce la metà Dell'ossigeno Che noi Che noi Respiriamo Ed è 168 volte superiore Come dimensioni Alla superficie emersa Per cui è estremamente importante But we turn our oceans Into garbage dumps We put our waste in the oceans And we rob them We put big nets in them We go in with trawls That grind up the corals Grind up the corals And what are the corals? It's where the new life Is born in the ocean So we destroy the places Where new life comes And we pull out Mass quantities Of animals in nets Nets are indiscriminate They catch The endangered sea turtles Cestations They'll catch basically Anything that gets caught in them And hooks are the same One of the problems with hooks The birds that are endangered Like albatross Will grab The silver hook And get drawn under And drown So the methods of fishing Are indiscriminate They catch anything There is no protecting Endangered species Furthermore Our quantity of fishing Has gone up extensively In the last century So we're pulling So many more fish Out of the seas And I hope all of you Know what bycatch is Bycatch is the Is all of the Part of the net And all of the things On the hooks The birds The turtles That weren't intended It's all dead And it's a one to five Ratio That there's five times As much material Pulled up That we don't want to eat As the one part That we do want to eat Il modo in cui noi peschiamo È un modo indiscriminato Quindi danneggiamo Anche le specie Come dicevamo Che non sono Non dovrebbero essere Consumate E non so se avete Presente il concetto Di bycatch Quindi sono tutti Quegli esseri viventi Marini Che vengono catturati Uccisi Nel processo di pesca E il rapporto È uno su cinque Quindi su una parte Di pesce Che viene pescato Per il consumo alimentare Cinque È costituito da Da uccelli Da tartarughe Da altri pesci Che non possono essere Consumati Che quindi muoiono The Pew Ocean Commission Says that our seas Are in a state Of silent collapse A fish like the Vaquita That is There's only about 300 Maybe 400 Of them left They're a beautiful fish About About my size They have one baby Every two years But we lose 30 of them 30 of them And this is an Extremely endangered Cestation Whale Porpoise Family And we lose Them to nets As long as we keep Fishing We can't rebuild The endangered species Allora Il mare Sta Collastando Praticamente In silenzio Perché ovviamente Non lo vediamo E non lo sentiamo C'è in particolare Un pesce Makita Che ci sono circa 300-400 esemplari In tutto il mondo Rimasti Sono dei pesci Grandi Grandi come lei Che producono Un figlio Una volta Ogni due anni E vengono uccisi Ne sono uccisi 30 Ogni anno Quindi Non smettiamo Utilizzare Queste reti Questo modo Indiscriminato Di pescare Non riusciremo A salvare Le specie Soprattutto Le specie In estinzione Consider The blue Thin tuna How many Of you Have heard Of the blue Thin tuna I hope Some of you It's quite well Known Because It's extremely Endangered It's one Of the biggest Fish It's more Than two Metre long It's one Of the fastest Fish It's one Of the longest Distance Swimming Fishes And it's one Of the few Warm-blooded Fishes By all accounts It's an Absolutely Beautiful Metallic Blue Fish It's a Gorgeous Fish But it's Flesh Dead In Japan Is worth More than Silver Imagine The Vakita Or the Blue Thin tuna Right here In this Room That we Could Actually See Them Think What a Fine Thing That would Be I'm Sure They're Amazing The more We study Fish The more We learn That they're Intelligent Very intelligent Beings Not that Intelligence Matters I don't Care how How ignorant Or unintelligent A human being Is to know That their life Is worth Protecting But fish Are fascinating They solve Puzzles They know Mazes They use Tools How does A fish Use tools But they've Seen an Octopus For example Use a Coconut For protection And they've Seen fish With no Hands Throw Clamshells To break Them And they Certainly Know how to Use How to Hide And make Associations With other Fish For protection I mean These are Fascinating Beings We just Don't know It Because Because we can't See them And we don't Know it Because we Don't Want to Know It Because We're Eating Them Allora Il Man mano Che Conosciamo I Pesci Ci rendiamo Conto Che Sono Delle Creature Estremamente Intelligent Non Che L'intelligenza Sia Comunque Una Cosa Un Valore Fondamentale In Questo Contesto Sono Degli Essere Affascinanti Che Sono In Grado Di Utilizzare Persino Degli Utensili Ad Esempio Non So Se Avete Visto C'era Un Video Di Una Di Una Polipo Che Era In Grado Di Proteggersi Con Una Con Il Guscio Di Una Noce Di Cocco Oppure Ci Sono Degli Altri Pesci Che Sono In Grado Di Prendere Le Conchiglie Che Vogliono Aprire E Lanciarle Scagliarle Contro Delle Roce Comunque Contro Delle 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 Dure Per Riuscire Ad Aprire Quindi Sono Degli Essere Viventi Che Hanno Comunque Delle Capacità Che Noi Non Conosciamo Non Conosciamo Perché Non Vogliamo Conosce Perché Non Li Vediamo Ma Perché Soprattutto Li Mangiamo Climate change Is Damaging Our Oceans We're Damaging Our Oceans And You Can Look at Numbers You Can Look at Endangered Species You Can Look At The Intelligence Of Fish But In The End Of The Day Who Are Fish They're Individuals Not So Different Than We Are Living In Their Communities Just Wanting To Be Left Alone And At The End Of The Day They're Part Of Ecosystems That We Need So Why Fish Why Not Fish We Need Them To Even If We Didn't Need Them It's Not All About Us In Italia Come Sapete Si Di Recente Aperta La Stagione Venatoria Insomma Ricominciata La Caccia Si Sprecano Le Soluzioni Fantasiose Che Superano La Satira Per Punire Chi Cerca Di Impedire I Cacciatori Di Fare Il Proprio Mestiere In Liguria Chi Disturba Anche solo Lontanamente Un Cacciatore Tipo Dandogli Del Disgraziato A Distanza Rischia 600 Euro Di Multa Quindi La La Realtà Capovolta Capovolta È Diventata La Prassi Il Terzo Grande Capitolo Di Questo Libro È Dedicato Alla Caccia Quindi Dopo Aver Esplorato La Grande Mattanza Terrestre Quella Aquatica La Professoressa Kemmerer Si Dedica A Esplorare I Paradossi Le Violenze E Dettagli Di Quello Che Viene Ancora Chiamata Passione Che Appunto La Caccia Una Delle Cose Che Più Colpisce Per chi Si Occupa Di Questi Temi E Che Spesso La Caccia Viene Vista Un'attività Moralmente Migliore A me So Se Ne Possa Fare Una Scala Del Nutrirsi Direttamente Di Animali Che Derivano Degli Allevamenti Industriali Perché Si Cerca Un Qualche Tipo Di Confronto Diretto Con L'animale Come Se Andare In Giro Con Un Fucile A Pompa Si Dà In Qualche Modo Un Diretto Modo Di Avere A Che Fare Con Un Animale Dotato Soltanto Di Artigli Però Vabbè Anche Lì La Fantasia Supera Come Sempre L'intelligenza Allora Perché Dedicare Un Interno Capitolo Alla Caccia Cercare Di Far Vedere Che Moralmente Riprorevole Come Altre Pratiche Che In Qualche Modo Sono State Evidenziate E Perché I Danni Della Caccia Possono Essere Numericamente E Politicamente Di Uguale Impatto A Quelli Del Grande Alleamento Industriale Safarada The Press That Has Translated The Book Has Done A Wonderful Job Of Adding Information For Italy For The Region Which Is Really Important Whereas Animal Agriculture And Fishing Are Quite International To Some Extent Hunting Is Much More Regulated Within A Country And I'm Told The Situation Is Somewhat Similar Here In Italy So In The United States The Hunters Are Of Course What Destroy The Wildlife So At Some Point Because We're A Young Nation We Were Able To Actually See Gosh Going Down Going Down We're Not Going To Have Anything To Kill If We Don't Do Something So The Government Had Hunters Within It Roosevelt And They Got Together And Said Let's Establish An Organization That Will Make Sure That We Protect Animals For Hunting And We Will Tax Hunting Guns To Fund That Organization Gli Stati Uniti essendo una nazione relativamente giovane ha avuto modo di verificare la diminuzione degli animali selvatici nel corso a causa della caccia per cui Roosevelt all'epoca ha creato proprio un'associazione per regolamentare la caccia nel suo paese per proteggere in un certo qual modo gli animali selvatici di modo che ce ne fosse la sufficienza per poter continuare a cacciarli imponendo anche delle tasse sulla vendita delle armi per poter finanziare questa associazione e tutte le attività che ad essa collegate so here we see the roots of the idea that hunters are conservationists that they conserve nature but we have to be aware of is they are manipulating nature so they kill two to three million predators every year in the United States with monies tax dollars and monies raised also from these guns and it costs about 130 million dollars to kill that many predators every year so conservationists is a misnomer it's not true all they're doing is trying to preserve their habit of killing which is of course a little scary in itself people who enjoy killing is this really something we want to foster I know that in my country the guns and the violence are completely out of control and it's and for instance the school killings were done by kids who hunted they knew how to use weapons they knew where they were they knew how to load them so just in itself this idea of sport killing seems to me rather problematic even if you eat what you kill because it's clearly unnecessary we have many other things to eat so in reality they don't want to protect the environment but they just want to protect the passion for what to do that at the end is to kill an animal living and it's really what we want to do is to promote this type of culture in the United States in particular is a problem because there is no control on the armament so we are all aware of what are the laborers in the schools these children are children that from young people they have been cagando they have had contact with the arms so it's a problem not different so you see the problem we've created a government organization that's collecting lots of money and employees lots of people and meanwhile hunting is dwindling as United States matures so what they've done is first they taxed handguns so that every person in the city who never thought about hunting and never wanted to hunt is now paying that tax especially women who are afraid and are buying handguns because they're afraid many of whom some of whom I know who hate hunting the other thing they've done is to try to promote hunting so our tax dollars are going toward hunting promotion and what they're trying to target is women and girls their idea being if we can get the females to hunt they'll teach to their children and we'll have an ongoing group of hunters So the United States have created this organization that collects a lot of money with taxing that they have imposed on the weapons that are sold and that is very large because it gives them different people but what they're doing is that in the United States the hunting is diminishing the number of huntingers is diminishing and at the same time they're imposing these taxing on the selling of weapons and the idea that the animals are free so that somehow it's better is of course ridiculous there's so many woundings especially with you use the pellets the shot that spreads when you're shooting birds and there's something like a 70% wounding rate hunting with bows and arrows is popular and there's about a 50% wounding rate escaping with arrows in them and I hear about it I live in Montana so and also the idea that somehow the freeness allows us to invade their private space and the peace and beauty of the wilderness so what hunting does through the alliance just through the act of hunting and violence and also because of the alliance with the government is it manipulates and destroys natural ecosystems as long as we have hunting we will never have natural ecosystems on any of our public lands The fact of the discourse is that the animals that are cacets are free and that soffron relatively less is not true because many animals are ferited during the battle of caccia but then they don't move and they don't get killed and then the level of suffering that are imposed in these animals are very high because the tools that are used to have the ability to be able to provocare damage to the animals without togliere the life this provoca extreme suffering the human continues to invade the natural space of these animals but it doesn't respect it and continues to cause suffering so we can never have an environment really natural until we continue to do these things that we are doing every year in Montana about this year I hear about fathers and sons and bonding and time in nature and how this is such an important tradition and my response is if you really want to get back in touch with nature and bond with your children don't go out in the wilderness once or twice a year to kill things plant a garden you can be out there every day digging in the soil I did this as a kid I loved it all of us kids out there hating it because we had to go out and weed but we remember the time we had with our parents in that garden all summer it's a much better alternative there are some states in the United States like in Montana in which the caccia is also seen as an activity that promulg the spirit familial if you bring the family to the family to caccia a few times in the year in the nature if you think to create an experience positive and instead of going two times all year to do the caccia because instead we don't do it to an orto for example an activity that can be done daily and that leaves experiences extremely positive that remain for the children even if it is not the subject of the book I asked to Lisa to try to give an ultim question to give an ultim domanda su quella che è la question più ampia su cui lei ha lavorato cioè quella dell'ecofeminismo mi sembrava un bel tema di discussione anche su cui articolare il dibattito perché dopo mi farebbe piacere che come dire il dibattito coinvolga anche voi che siete venuti fin qua ad ascoltarla qualche anno fa un libro che poi è diventato molto celebre tra gli attivisti un libro di Carol Adams una politica sessuale della carne non ancora tradotto in italiano ma con un ritardo abnorme sta per succedere metteva in relazione la condizione delle donne con quella degli animali uno dei capitoli del libro quello diciamo più decisivo si chiamava in modo provocatorio lo stupro degli animali e la macellazione delle donne ora vado a memoria spero di non aver invertito più di tanto la cosa ed era un capitolo decisivo in cui veniva messa in correlazione la questione femminile e l'idea che le donne spesso siano state relegate alla loro condizione di animale o di schiavo in una società tipicamente fallocentrica e maschilista e che in qualche modo la condizione del cosiddetto gender fosse una qualche tipo di porta di ingresso privilegiata alla più ampia questione dello sfruttamento delle altre forme di vita è in questo senso che nasce questa cosa l'ecofeminismo che cerca di discutere una più ampia teoria dell'oppressione entro la quale vengono correlate in modo diretto e decisivo tutte le diverse forme di sfruttamento del vivente lei se ne è occupata in diversi libri in diversi lavori e probabilmente anche la teoria per cui Lisa Kemmerer è anche così celebre all'interno del mondo della filosofia e dell'attivismo in che senso è possibile far capire che le oppressioni sono tra loro connesse e collegate e perché in qualche modo la questione femminile dovrebbe essere una porta di ingresso privilegiata alla più ampia questione di sfruttamento della vita soprattutto la vita animale le cinque principali ragioni che credo come eticista è cruciale per noi retenere la nostra dieta sono molto infelice che Safra abbia scelto l'ambiente e abbia tradotto questo libro sull'ambiente e ho trattato in un mio libro Sister Species il discorso che aveva appunto introdotto Leonardo sulla correlazione tra le donne la parte femminile l'elemento femminile e lo sfruttamento c'è un concetto che adesso vi voglio illustrare che è basato su cinque punti quando sono vecchi ho dovuto pensare di acronymi perché non mi ricordo niente quindi ho scelto una parola dalla tua lingua perché la tua lingua è bella amore quindi ho usato la parola amore per ricordare le cinque razze morali per ricerciare la nostra dieta la prima è l'animal sofferenza l'A significa la razza che gli attivisti hanno venuto a essere e la loro combina parlando delle motivazioni per cui bisogna cambiare appunto la nostra dieta le motivazioni morali alla base di questo cambiamento mi sono affidata a un acronimo visto che ormai per passare del tempo faccio sempre più fatica ricordare le cose ho preso in prezzo una parola dall'italiano cioè la parola amore in cui ciascuna lettera rappresenta un concetto molto importante la prima lettera è l'animale la sofferenza degli animali è il primo motivo fondamentale per il quale ho scritto questo libro la sofferenza dal punto di vista morale è fondamentale perché pesci polli qualsiasi tipo di essere vivente è un essere senziente quindi prova la sofferenza dal punto di vista morale è qualcosa che noi non possiamo assolutamente dimenticare ma è una cosa che noi come attivisti non abbiamo mai non siamo mai riusciti a spiegare in modo chiaro a tutti quelli che tra virgolette non la pensano come noi per questo che gli altri quattro lettere sono molto importanti la sofferenza M stands for medical reasons and there's no question that the main killers in the western world stem from cheese and yogurt just like it's the greatest suffering of dairy cows it's also our great suffering when we eat dairy products heart disease stroke cancers diabetes obesity they're all linked to our diet also with medical the cost of medical care in my very primitive country that doesn't have socialized medicine is linked with our bad health so if we do preventative medicine which would require changing our diet we could really help all of our health and we could bring down the costs of medical care la M sta per i costi le motivazioni mediche cioè proprio che riguardano il nostro stare bene fondamentalmente infatti la maggior parte dei problemi di salute che abbiamo nel mondo moderno sono dovuti all'alimentazione a quello che consumiamo quindi diabete attacchi cardiaci obesità sono tutti dovuti al modo in cui noi abbiamo scelto di alimentarci e i costi che il nostro stato ma in particolare negli Stati Uniti dove non c'è un sistema sanitario tale che possa gestire tutto questo i costi sono elevatissimi quindi modificando quello che noi mangiamo potremmo anche contribuire a ridurre il costo di questi problemi sanitari che derivano dal modo in cui noi ci nutriamo quando penso è davvero sorrissante il nostro capitalismo sono due dei nostri maggiori potenti la industria medica e la industria come siamo mai a cambiare questo nel mio paese c'è tanto potere in mantenermi sick se pensiamo nel capitalismo ci sono due grandi colossi che alla fine dei fatti tragano vantaggio dalla situazione attuale del mondo le industrie farmaceutiche fondamentalmente e le industrie che si occupano dei prodotti alimentari quindi gli allevamenti fondamentali come possiamo riuscire a contrastare il loro potere voglio che noi siamo malati per poter continuare ovviamente a sopravvivere il terzo è un O for oppression e under that i remember the 3 main branches of oppression with W's so it's women workers and world hunger so the oppression that we cause with our dietary choice is well if you look at workers none of us grows up wanting to work in a slaughter house it's horrible work so when we choose to buy animal products we condemn the poorest people usually immigrants who don't speak the local language to working in these horrible conditions and in my country it's awful and it has the biggest turnover and the people there don't have medical care and it has the highest rate of very serious accidents because they use very sharp to kill animals the third letter is the oppression when I there are three things that I have in mind the women the women the women and the women data by fame in the world if we in this context to the workers are the workers of the matto that don't a work that are a leggero people don't have the opportunity to choose another activity that people who work in the security because are people illegal in the place in which oper and who don't have the prote they have per avere, oltre a fare un lavoro estremamente... Tons of grain, four tons of grain can be consumed by a calf in the last four months of his or her life, just as an example. How long could people live on four tons of grain? I mean, a 50-pound bag of grain would last me probably a year. So this is a lot of grain. So when we eat animal products, chickens and pigs and fish, the factory-farmed fish are also fed fishes from the seas. When we feed farmed and factory-farmed animals, what we're saying is we're going to have our meat while you're starving. And this is why I say it's a moral choice. And we really have to choose whether we're going to eat what we want and snub our noses at the hungry, or whether we're going to think more globally. La seconda W è il World Hunger, la fame nel mondo. Pensiamo che negli Stati Uniti, in Europa, il 60% di tutti i cereali che vengono prodotti vengono utilizzati come cibo proprio per gli animali allevati. Negli Stati Uniti questa percentuale è superiore, si parla del 70%. Quindi pensiamo a tutto quel cibo che viene prodotto e che poi viene utilizzato per nutrire gli animali che solo alcune persone nel mondo sono in grado di consumare. Quindi dal punto di vista morale vogliamo veramente non rinunciare alla nostra bistecca e far sì che il resto del mondo muoia, perché noi abbiamo deciso che non possiamo rinunciare a quello che noi abbiamo nel piatto. The third W is for women, but it stands in for all the oppressed groups. So if we look at pigs who are forced to bear 120 piglets before they're sent to slaughter, if we look at chickens who are kept in the battery cages where they lay their eggs, and they live 12 times as long as the broilers, the pigs, I think, live either, I think they also live 12 times as long as the ones that are killed, and six times as long for the cows. So the females that are exploited for reproduction suffer much longer, and they suffer emotionally as well as physically. Not that the males don't also suffer emotionally, but they are repeatedly forcibly impregnated, forced to have the young that are taken away from them, the pigs and the cows. So they suffer in very different and very morally problematic ways. La third W è women, le donne, l'elemento femminile, diciamo. Nel regno animale, nello sfruttamento che noi facciamo degli animali che usiamo nelle nostre devamenti, gli animali di sesso femminile soffrono molto di più, molto più a lungo. Le scrofe vivono fino a che hanno avuto 120 cuccioli, ad esempio. Le galline vengono tenute in una gabbia dove devono continuare a produrre delle uova. Quindi soffrono altrettanto gli esseri maschili, diciamo, di sesso maschile, ma non così a lungo. Quindi dobbiamo renderci conto che provochiamo una sofferenza prolungata a questi animali che vengono obbligati a riprodursi, quando in natura magari non l'avrebbero fatto, e che vengono poi separati dalla propria parola. Le donne sono, da un certo punto di vista, abituate, io come donna, sono abituata ad essere trattata come un oggetto, essere vista come un oggetto sessuale, una cosa che tutti gli esseri femminile, diciamo, subiscono. Eccolo questo pianeta, sia un'acchia, sia un'acchia, una carica, una cosa che fa. E' hoş scelata per fare l'olimento, laura per fare l'esercizata, e I can feel it differently, I think, women can feel this differently than men can feel it. And in this understanding, it's opened my world to racism, ageism, heterosexism. e l'ageismo e l'ableismo è l'altra cosa che prenderò alla tavola. E questo mi ha aperto un mondo, diciamo, vedere questa correlazione mi ha poi fatto vedere in modo diverso altri problemi collegati appunto a ciò che è diverso, tra cui ad esempio il razzismo e altri elementi di discriminazione. So ecofeminism teaches us that there's an overarching system of oppression. So when we look at world hunger, when we look at workers, when we look at heterosexism or ageism or ableism, we're looking at a system that objectifies and puts power over so that they become exploitable and used for the purposes of those in power. And one of the things that we can see is that if you're not useful, if you're older, if you're gay, you're not going to have kids. Maybe you're not going to have kids or you can't have kids. If you're disabled and you can't produce, you're going to be marginalized and your value will be reduced. So this is ecofeminism's understanding of how speciesism is linked to all the other isms and all the other forms of exploitation. And as a woman, I have a very, a door in to really understand the meaning of that and feel it. Quindi l'ecofeminismo ha aperto tutta questa visione su come esiste un vero e proprio sistema di oppressione, di tutto ciò che è diverso, e tutto ciò che può essere, essendo percepito appunto come diverso, come non previsto, può essere sfruttato, può essere utilizzato per fini che non sono quelli per cui doveva essere, per cui è stato creato. E lo specismo, diciamo, è collegato a diversi elementi della vita, e come donna probabilmente sono in grado di comprendere tutto questo molto molto meglio. The R of Amore stands for religions, and it's another one of my specialties, is that I've looked at world religions and animals. And what I've come to see is that there is no religion out there that can justify what we're doing. That anyone who is spiritual, anyone who's aligned with the religion, your religion teaches you about compassion. It teaches you service, it teaches you the simple life, it teaches you to share, and all of these suggest a vegan diet. La letter R sta per religione, nessuna religione può giustificare nessun tipo di uccisione, quindi se si è religioso e se ci si ha questo spirito dentro di noi, l'unica cosa che si può fare è scegliere una dieta vegana, non ci sono alternative. And the final one you know, it's the E for earth and environment, and as I say, all of the major environmental problems, the number one cause is our diet. It's deforestation, it's freshwater reduction, it's climate change, it's the soil degradation, and it's the dead seas caused by the manure and the pollution. All of those, if we could just change our diets. And the other thing about this is that so often with, it's so easy to point fingers when you look at environmental problems, we don't want to change. Ok, so we say you quit having babies or, you know, let's just educate these people over here, but we have to be empowered to bring the change. The earth is in a serious state. What can we do? Change our diet. It isn't that hard. E l'ultima letter R sta per la terra, earth, e per l'ambiente, environment. Quindi quello che dobbiamo assolutamente fare non è puntare il dito e dire voi dovete smettere di fare figlio, voi dovete fare così, possiamo fare una cosa, la possiamo fare tutti, cioè cambiare quello che noi mangiamo. Le mie domande sono terminate e quindi tecnicamente anche la conferenza diretta è il motivo per cui vi chiederei di fare un applauso all'Issa Kemmerer. Thank you. Direi di prenderci, se vi va, un quarto d'ora, fino a più o meno le sette e mezza per delle domande dal pubblico, in modo tale da lasciare poi lo spazio a chi vorrà per avvicinarsi all'Issa, farle delle domande direttamente ed eventualmente usufruire della possibilità del famoso firma copie. Dunque, il mio compito allo stato attuale è mettere in ordine se ci sono tre, massimo quattro domande e poi andare avanti col programma. Iniziate timidi, che il tempo è tiranno, per favore. They told me that you don't normally ask questions here, I love questions. Normalmente in Italia il pubblico tende ad essere un po' timido e non fa domande. Non siate timidi, quindi fate domande. Come on. Sto per fare quella terribile cosa di concludere senza domande. Sto per certo che mi salverà almeno un angelo custode di cui non farà il nome, ma è bene, perfetto. Cosa pensa del recente acquisto da parte della Bayer della Monsanto? What do you think about the Bayer by Monsanto, which recently just came out? Which was like, this question came out on the news recently, and what do you think about it? I'm delighted. La contentissima. Yeah, Mondesino started out as a drug company. Now they've gone back to a drug company. I think it helps us wake up to Monsanto and who they are and what they're doing. So I love this to be in the news and I hope more people will dig into their history and expose who this company is. E' importante perché il fatto che questa cosa sia tornata alla ribalta spiegnerà, spera, sempre più persone a capire e cercare di comprendere cosa è veramente questa società. Quindi risalire nella storia e cercare di interessarsi di più e comprendere le ragioni che sono dietro a tutta questa situazione. Più l'azienda è famosa, più la gente si interessa e quindi più informazioni si spera la gente andrà a ricercare sul passato di questa società, è quello che ha fatto e sta facendo. Prego. Ma quello che si pensi in quanto le sue ricerche è che cosa... qual è il dato che risulta di quanto inquinano gli allevamenti... ASCII MS SA scale Il rispetto ai resti delle fonti di... L'inquinamento possibile So the comparison between, like, breeding, how much does it impact on air pollution? Some studies say that up to 52% of air pollution is caused by, yeah, animal farming. Yes, the higher percentage simply includes more that's involved. So the 18% leaves a lot of things out. And this is where it's really important to remember that, for example, 70% and 60% of the grains are fed to farmed animals. So if you include everything that it takes to feed and house farmed animals, it goes up to 52%. If you ignore things like maybe the water it takes to clean a slaughterhouse or the plowing of the field before they plant the monoculture, the plane that flies over and puts pesticides on the field because it's a monoculture, if you ignore all of those and just count the most direct things, just the direct things, you'll come up with 18%. But clearly we should include everything. All the 2% that are said, how much damage is caused by the allevations? If you talk about 18% and some are at 52%. If you talk exclusively about the allevations in the sede of the animals, 18%. But if you include all the things that are correlated, all the activities that are correlated, for example, the water that is used to clean the macelle, or the air that has to spread the pesticides, all the activities that contribute to the allevations of the animals, if you look at the 100% of the animals, if we quit animal agriculture, we would need 37% of that. Can you imagine returning almost 60% of our lands to wild lands or using them for other wonderful purposes? I mean, this is an environmentalist dream come true. But it indicates why the 52%. There's just a tremendous amount of waste that goes into animal products. Del 100% delle terre che adesso vengono utilizzate appunto per l'allevamento degli animali, che comprende tutte le collettività che abbiamo detto, se noi smettessimo, cambiassimo la nostra dieta, avremmo bisogno esclusivamente del 37% del terreno coltivato. Quindi potremmo ritornare, diciamo, lo stato brado, il 60% quasi di terreno. Quindi farebbe una differenza colossale. C'è tempo ancora per almeno un'altra domanda, qualora mi sei spontanea, diciamo. Spontanea question? Va bene, se non ci sono altre domande, io invito chiunque volesse ad acquistare il libro e a raccogliere il materiale informativo dell'Associazione Essere Animali. ringrazio moltissimo la Casa della Cultura per averci ospitato e chiunque volesse continuare a chiacchierare con l'ISA, far firmare il libro e via dicendo, può farlo. Grazie a tutti per aver preso parte a questa conferenza. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.